non riescono ad entrare, hanno avuto a girare i bambini come? non hanno trovato le ipotrasie mi sa girate non riescono ad entrare un'esagerazione c'è c'è ma tu lo vedi o no? ma come non vedi? hai visto Aurora che ci sta? c'è un bambino non c'è un bambino sicuramente c'è stata qualche strada per arrivare ai bambini non c'è ma è mamma io voglio qui 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 si mettono una curiosa a casa è espirazzaria di merda ma stanno in bagno queste due cose che ne so a domani non mi lo può che chiesti? dove ci stanno in questo due cose? a domani venuti dice che si sta piacere ciao 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 ciao